Il mondo è cambiato, anche X-Factor è cambiato. Mi piacerebbe trovare una spontaneità che non è figlia di questi anni. Cercare una vera novità, una vera ventata di freschezza. Vorremmo delle prove televisive di talento nella musica italiana. La musica è quello che l'essere umano sa fare e l'animale non sa fare. Vista la precedente esperienza, ci si può aspettare di tutto. Buonasera, capo di X-Factor! Grazie! Grazie!